Il premio Nobel per la letteratura nel 1957 Albert Camus, figlio di immigrati francesi a Mondovì, nell'allora colonia di Algeria, di cui il 4 gennaio si commemorano i 60 anni dalla morte accaduta in un incidente automobilistico, rivive alla Sala Terme di Bormio sabato scorso nell'incontro Parole e Immagini, curato dall'ufficio pubblicità della Banca Popolare di Sondrio, in collaborazione con la Commissione Cultura del Comune ospitante. Ennesimo successo condotto magistralmente dal francesista bormino Leo Schena, generoso verso la comunità di Bormio, per un evento giunto alla settima edizione, capace di portare cultura nel territorio e di offrire a residenti e turisti spunti di riflessione che vanno oltre lo sport. La nostra serata quindi è dedicata al ricordo di questo grandissimo scrittore. Perché è grandissimo? Perché come pochi ha saputo cogliere, interpretare il senso di angoscia catanaglia l'uomo, l'esistenzialismo. Davide Vago, storico e docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha coordinato e dipanato la serata incentrata sull'opera di grande solidità nell'impianto narrativo e innovazione stilistica, Lo straniero, apparso sulla scena letteraria nel 1942, in un'epoca drammaticamente segnata dall'occupazione nazista. La sua grande attualità nei temi che tratta riguardanti la violenza, il potere, la coscienza dell'uomo, la separazione tra l'uomo e la realtà, tutte tematiche che comunque appartengono alla nostra contemporaneità. Oltre in modo valido l'apporto recitativo di Christian Pugioni, voce narrante di tutti gli appuntamenti Nobel, attore prestigioso del Piccolo Teatro di Milano, un amico per Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale della Banca Popolare di Sondrio. Riteniamo che anche la cultura, come altre iniziative e manifestazioni, siano estremamente importanti per far crescere il territorio, per far acquisire maggiore consapevolezza, per sfatare quel mito che la cultura a un certo livello non viene recepita. Non è assolutamente vero. La struttura sottesa al romanzo è la discontinuità temporale, appunta il professor Schena. Ogni frase è isolata e il tempo chiuso in sé è un'isola, così da riflettere lo stato di incommunicabilità fra le persone. Sistematico è l'uso ricorrente del passé composé, il passato prossimo, forma analitica di passato e presente, particolarmente idonea a descrivere un'esistenza assurda e vuota, fatta di automatismo. Il pubblico numeroso e attento ha ben apprezzato la rappresentazione anche nella sua crudezza di significato, capace proprio per questo di scuotere le coscienze universali, verso la necessità di un approccio comunicativo tra gli esseri umani, quale base e significato primo dell'esistenza. Consideriamo estremamente importante e parte della nostra missione fondamentale il fatto di contribuire nei limiti del possibile alla crescita non solo economica, ma anche culturale, civile, sociale delle comunità e dei territori nei quali siamo insediati. Grazie.